Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Nella notte tra il 7 e l'8 aprile è stato rilasciato sul canale ufficiale di Pokémon un trailer riguardante il ventesimo film Pokémon che andrà in onda nelle sale cinematografiche e forse era anche ora che ne parlassi anch'io. Non andrò però a dire cose già dette da altri, cosa che sarebbe molto inutile, ma tenterò di farvi riflettere con una teoria su un particolare su cui nessuno che io sappia si è mai soffermato. Per chi però si fosse perso qualcosa, riassumiamo velocemente ciò che c'era all'interno del trailer. Questo trailer mostra l'inizio dell'avventura di Ash e del suo Pikachu, ma in una chiave totalmente rivisitata. Difatti Misty e Brox compaiono, sostituiti da due allenatori che, avendo come Pokémon un Piplup ed un Lucario, potrebbero provenire tranquillamente da Sinnoh, il che sarebbe, tra l'altro, un grandissimo riferimento agli ipotetici remake di quarta generazione che verranno. Abbiamo poi altri elementi rivoluzionari, come un allenatore che, nella regione di Kanto, utilizza un insinoror, l'apparizione di Marshadow al seguito del nuovo trio e, elemento più interessante ancora, possiamo assistere all'ottenimento da parte di Ash della leggendaria Aladiride di O.O., ottenuta nel momento in cui l'allenatore scorge il leggendario stesso. Tenente a mente questa cosa perché ci tornerà molto utile. Tutte queste incongruenze con la trama principale che conosciamo, ci portano alla conclusione che in questo momento si stia parlando di un universo differente, e soprattutto di un Ash differente. Per maggiori dettagli vi lascio un video in descrizione che vi fornirà sicuramente informazioni più dettagliate a riguardo. Ciò di cui io volevo in realtà parlare, dopo questa premessa fin troppo lunga, è il come è cambiata la regione di Kanto in questo universo. Mi spiego meglio. Per noi, la regione di Kanto, come la conosciamo adesso, è una regione molto chiusa in se stessa, nel senso che sia nell'anime che nel gioco non si incontra nessuno che provenga da altre regioni, forse qualcuno di Yoto e non ne sono nemmeno troppo convinto. Inoltre, a differenza di regioni come Owen e Sinnoh, a Kanto sono trovabili praticamente solo i 151 Pokémon che la abitano, come se la regione fosse isolata dal mondo, cosa che non è in realtà vera. Ora, cosa avrebbe portato Kanto in un universo alternativo a cambiare così tanto sotto questo aspetto, ospitando allenatori di Sinnoh e Pokémon di Alola? La teoria è che, in questa regione parallela, la famosa guerra di Kanto che si dice abbia dato il via ad ogni avventura, non sia in realtà mai avvenuta. Le prove a sostegno sono molteplici. 1. Kanto è popolato da abitanti e Pokémon di altre regioni. Ciò può significare sia che qualcuno possa avere migrato per prosperare nella regione, sia che nessuno se ne sia andato per fuggire dalla guerra. 2. Misty e Brock sono assenti. Questo dettaglio è interessante, perché una delle basi della teoria ormai quasi certa della guerra di Kanto è che la decimazione della popolazione abbia portato dei ragazzini, unici sopravvissuti in quanto non hanno combattuto la guerra, ad assumere i ruoli di capipalestra. Se, nella dimensione alternativa, la guerra non ci fosse mai stata, per associazione, Brock e Misty non sarebbero mai divenuti capipalestra e dunque Ash non li avrebbe mai conosciuti. 3. Oh oh, lascia cadere la sua piuma sulla regione di Kanto. Questo forse è più un simbolismo che altro, ma il fatto che l'arcobaleno rappresenti la pace e che il Pokémon leggendario associato ad esso lasci cadere la sua piuma sulla regione, considerando tutto ciò che è stato detto, beh, sicuramente è affascinante. Quindi ci troviamo davanti ad una Kanto molto diversa che per le ragioni citate in precedenza ha corrotto l'avventura di Ash, così come la conosciamo. E chissà che l'allenatore non abbia all'interno del ventesimo film Pokémon un ruolo importante in questa ottica molto molto particolare. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questa teoria, se pensate che sia giusta o sbagliata, se avete degli appunti da fare. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati su ciò che avviene nella mia vita al di fuori di YouTube e premete la campanella in alto a destra per ricevere i feed. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!